La Commissione Consiliare Infrastrutture ha effettuato stamattina un sopralluogo alla stazione di piazza Fuga della funicolare centrale per fare il punto sull'andamento dei lavori di rinnovo e di adeguamento tecnico che procedono secondo il cronoprogramma stabilito. Presenti il direttore dei lavori Carlo Ferrentino e l'amministratore di ANM Alberto Ramaglia. Dopo l'ammodernamento dei treni sono in via di completamento tutte le altre operazioni di rinnovamento delle strutture e degli impianti tecnici a cura dei lavoratori di ANM e della società appaltatrice Leitner. Questo è il secondo sopralluogo che facciamo sui lavori della funicolare, prendiamo atto che i lavori stanno procedendo nei tempi prestabiliti. Questi signori lavoratori hanno da mesi e stanno facendo grandi sacrifici perché stanno lavorando di notte, perché il trasferimento dei materiali che sono materiali ingombranti per lo più e la messa in opera si possono fare soltanto di sera e di notte per non dare problemi alla viabilità. 25 mila passeggeri al giorno che purtroppo in questi periodi per i lavori che dovevamo fare e bisognava fare si sono poi dirottati tutti sulle metropolitane. Ecco perché il grande problema della metropolitana che comunque va migliorata, la linea 1 comunque va potenziata. Dopo la conclusione dei lavori prevista per il mese di giugno seguirà il collaudo e il preesercizio di 150 ore previsto dalla legge con la riapertura al pubblico nel mese di luglio. Per luglio riconsegneremo la funicolare centrale alla cittadinanza, ai vomeresi e soprattutto ai vomeresi perché è una vecchia e antica collegamento con l'area collinare, ma soprattutto alla cittadinanza.